ragazzi abbiamo fatto una cosa è vero che mu fatto e mu ha avviato il prosciutto sei stato contento di farlo si sono contento di farlo ma tu e me che non fai niente non è possibile che questo è tutto scemo così ma da serato da qui, 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 così, no così, così ma stronti, vaffanculo stronti, 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 stronti stiamo a fare la croce, ma la croce da sto cazzo anche stavolta le madonne sono rimaste nonostante avevamo affettato il prosciutto sono rimasti tutto a posto, vero? eh? stai contento? vedi chi c'è? vedi chi c'è? ma chi è? è un amico tuo guarda, a sinistra ma chi è? filiberto? si bella persona guardalo, vedi? filiberto mio, eccolo, vedi, guarda chi è? è il gatto